Nel giorno in quina prima ci si attendeva il rapporto dell'IMF e l'opinione di Bisa ha un'opinione di Bisa dovete partire in compiere, non è una curva che non è un spendo ma non è quello che costa bene però mi sono contento di mirare con un altro istituto, un altro gremio, una roba a sali per l'alante e a tristare un punto di vista basicamente il rapporto dell'IMF ha confermato qualche CFT che ha a Bisa ho avuto un gruppo di esperti di IMF, ho avuto un gruppo di esperti di CFT e tutto ci si arriva nel messo in conclusione uno che ha rubato in crisi finanziari un'opinione grande due che non si guardano di serietà per attendere questo asunto mentre elogia la Cámara di Commercio per sali come prima per l'alante e d'un punto di vista critico mentre elogia a te accettare un'opinione per l'alante e ponere un punto di paper e lamentare che questa dia già non ha dato nulla di Banco Centrale ancora ma è stato fatto in un altro tempo è stato fatto in un tempo come ha fatto in un mando anche il gremio è un'opinione più critico non è stato fatto in un bosco di riscaldare un'opinione più e è stato fatto in un Banco Centrale che è stato fatto in un watchdog di nostre finanziari lamentablemente che cambia di governo cosa cambia e mi sta lamentando che noi non arraia è un'opinione di esperti in una materia qui questo Banco Centrale e come non è stato fatto con noi forse di fuori di situazione che noi stiamo questo è importante tutto il problema di Bile ha una soluzione però ho avuto cominciare a admitire il problema e di noi abbiamo un plan di soluzione come soluzione il problema e questo è il nome che scucia di Banco Centrale come non è stato fatto il problema che noi voglio soluzione perché noi abbiamo confianti quando non c'è un plan e non c'è un'opinione e non c'è un'opinione per aiutare il nostro telefono il risultato principale è il mani del cabinet di Maginma il suo mani economico e finanziario il mani di una falla il mani che non è stato dirigito nel di un paese che andano per lante il mani che non è stato dirigito di sviluppare il paese che andano dare più un lavoro economico il mani che non è stato dirigito di abbandare il fondo di un paese come come non è stato fatto Non è così strano che ci tende così tanto a voi nella comunità di criticare, di questionare, di disaprovarci e di contrari che stanno salendo a un'opera di comunicazione e il coordinatore che stanno lavorando a noi Niente contro la persona ma che ogni gente ha il interesse di lavorare in luce che va avanti ma che non ha mai responsabile per contrari che la firma con il suo coordinatore la firma è anche qui che ha perso nel stock e la firma un contratto per un recepcionista, telefonista che ha avuto 3.800 flori se ha avuto, vado a studiare in Rolanda va avuto 5 anni, 6 anni che vado a studiare in Rolanda ora è venuta, è venuta, è venuta che deve studiare la sua lomba appena ha avuto un lavoro se ha avuto un lavoro nel governo, sa quanto è che ha avuto? 3.700 flori meno che persone che non con il recepcionista telefonista e bordo che non c'è un'injustice con che cara va a stimolare molto per andare a studiare ma sobra, non c'è bisogno di studiare chi non c'è bisogno di studiare? se non c'è nessun studio e nessuna preparazione non c'è nessuno se non c'è bisogno di studiare il nostro paese non c'è bisogno di 4.000 milioni di flori non c'è bisogno di studiare non c'è bisogno di studiare non c'è bisogno di studiare